Ben trovati a tutti i gentili telespettatori ad una nuova edizione del TG6 dall'Aquila. In apertura la cronaca è stato tradito dalle tracce dei file cancellati ed è stato così arrestato dalla polizia di Stato uno stalker che per un anno ha seminato il panico in città. Vediamo. È accusato di aver terrorizzato per un anno la cittadinanza aquilana con atti intimidatori nei confronti di parenti, amici della sua ex ragazza ma anche di sconosciuti facendo poi ricadere le colpe sulla donna. Definendolo uno stalker seriale la polizia dell'Aquila ha arrestato un uomo di 38 anni. L'indagine è partita da una serie di denunce querele per atti persecutori personali e nei confronti del proprio nucleo familiare fatte da una donna aquilana. L'uomo, un esperto informatico, aveva avuto una breve relazione con la donna e conosceva bene la sua famiglia avendo anche prestato opera di consulente informatico. Da tecnico esperto pare che l'uomo abbia attivato degli stratagemmi informatici che hanno procurato imbarazzanti turbamenti quotidiani, violenze psicologiche ed economiche alla famiglia della donna. L'uomo realizzava documenti, messaggi e mail che inviava da diversi account creati di volta in volta e corredati da dati e generalità di altre persone sostituendosi di fatto a queste per finalità offensive, estorsive, minacciose e compromettenti. Per tutto l'anno appena trascorso, con i dati della donna, lo stalker, sempre in via telematica, avrebbe aperto conti correnti, richiedeva l'attivazione di servizi televisivi o telefonici o società finanziarie e acquisti online. Inoltre avrebbe pubblicato foto sui vari social network in cui faceva apparire la vittima come offerente di prestazioni sessuali. L'uomo è inoltre accusato di aver creato panico in città. A settembre scorso avrebbe annunciato con una serie di telefonate a distanza di pochi giorni la presenza di un ordigno all'interno di una scuola materna frequentata dal figlio della sua ex e dove la donna aveva lavorato fino al maggio 2015, periodo in cui lo stalker aveva effettuato la prima telefonata allarme bomba che aveva poi determinato il trasferimento della donna. Sebbene fosse un esperto informatico a tradire l'uomo, pare siano state le tracce di un fotomontaggio lasciate anche dopo la cancellazione. Veniamo ora al caro Pedaggi perché il gruppo consigliare appartenente a noi con Salvini propone il ricorso al TAR. Vediamo. La convocazione di un consiglio comunale ad hoc con un ordine del giorno specifico per ricorrere al TAR al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'ennesimo aumento delle tariffe sull'A24 e l'A25 è stato richiesto dai tre consiglieri comunali dell'Aquila, di noi con Salvini, Emanuele Imprudente, Daniele Ferella e Luigi Deramo. I tre hanno già chiesto il parere all'avvocatura comunale e non si fermeranno fin quando, dicono, il primo cittadino e l'amministrazione comunale non presenteranno ricorso al TAR e il comune dell'Aquila si faccia capofila di un atto collettivo a difesa non solo degli aquilani costretti a utilizzare l'autostrada ogni giorno ma anche di tutti gli altri appartenenti ai piccoli comuni interessati dal mega aumento del pedaggio autostradale. L'omertà che incombe su questa vicenda attacca il capogruppo Emanuele Imprudente dovrebbe preoccupare tutti. Gli aumenti si ripropongono con scadenza ormai annuale, vengono autorizzati quasi in silenzio e incidono sulle economie già precarie di moltissimi cittadini che percorrono una tratta interessata per piacere, per esigenze di lavoro o di studio ma anche per chi lo fa per questioni di salute. Molti comuni nel corso di questi anni hanno infatti tentato la strada del ricorso, prosegue Imprudente, chiamando a raccolta tutti gli enti interessati, ma in pochi hanno risposto. Chiediamo al sindaco, si legge dunque nella nota, di condividere un percorso unitario mirato a presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo per l'annullamento del decreto interministeriale che ha autorizzato gli aumenti delle tariffe autostradali sulla A24 e la A25 per chiedere poi a tutti i comuni abruzzesi, le province e gli antiparco di avviare lo stesso ITER nei confronti del Tarra. Torna a intervenire sulla vicenda dell'aumento dei pedaggi autostradali anche la senatrice PD Stefania Pezzopane con un'interrogazione rivolta ai ministri dei trasporti del Rio e dell'economia Padoan. Nel documento la senatrice Pezzopane sottolinea che solo 7 concessionari su 27 abbiano di nuovo rincarato i pedaggi e dopo la Milano-Torino l'autostrada dei parchi è quella per cui il pedaggio è più aumentato in una regione come l'Abruzzo che ha risentito in modo pesante della crisi e in cui i pendolari, anche verso Roma, sono moltissimi. Tra gli aumenti operati per il 2016, la senatrice Pezzopane ricorda anche la tratta l'Aquila Roma Est che è passata da 11,70 euro al costo di 12,10 euro come per l'Aquila Vezzano passata da 4,90 a 5,50 euro. Parliamo ora di sanità con una notizia che rileva che l'Aquila nel panorama regionale è quella che ha maggiori casi di demenza in tutto Abruzzo. Sentiamo i dettagli nel servizio. Con 3.300 casi su 12.000, la provincia dell'Aquila risulta la più colpita da demenza in tutto Abruzzo. A diffondere questo dato è stata la ASL, l'Aquila Vezzano sul Mona, che rileva che nella Sula Marsica sono presenti 950 casi di demenza. L'incidenza della malattia, sostiene la ASL, andrebbe ben oltre queste cifre ufficiali perché ci sarebbero tanti casi che sfuggono al censimento. Questo sommerso aggiungerebbe centinaia di diversi altri malati non ufficiali facendo schizzare l'Asticella in provincia dell'Aquila a un valore non molto lontano dai 4.000 casi. L'area provinciale aquilana sarebbe la più esposta in Abruzzo su un totale di 12.000 casi circa perché in sé è un elemento marcato che è la presenza di anziani sul territorio. La provincia dell'Aquila infatti registra un 22% di presenze di persone di più di 65 anni, una soglia anagrafica in cui la patologia comincia a manifestarsi nell'ordine del 5% e che si impenna con l'ulteriore avanzare dell'età. Nella sola area della marsica, poi, i malati seguiti da l'ASR, come già detto, sono 950. È l'Alzheimer a recitare un ruolo preponderante nella demenza, con un'incidenza del 65% sul totale dei casi di malattia, mentre la restante quota di demenza dipende da problemi vascolari. Veniamo ora ad un argomento più leggero. Entra nel vivo il pianeta della maldicenza. Come ogni anno si rinnova la tradizione della maldicenza di Sant'Agnese e quest'anno si è aperto un calendario con una serie di iniziative, la prima delle quali è stato il processo proprio alle male lingue, con un giudice d'eccezione, Nicola Trifoggi. Vediamo. Angelo Di Nicola, il festival all'undicesima edizione di Sant'Agnese. Come è nata questa grande novità, che è quella del processo quest'anno? Beh, è la voglia, il coraggio di mettersi in discussione, di dire va bene, ci sono delle critiche, affrontiamole, facciamo un processo pubblico con un vero magistrato, il magistrato di lungo corso, Nicola Trifoggi, e di prestigiosissimo corso, e valutiamo e mettiamoci in discussione. Ovviamente speriamo di vincere questa causa, certo, a giudicare dagli avvocati che abbiamo sarà difficile, però il nostro consulente, il professor Ceddia, sicuramente farà valere le ragioni della nostra Sant'Agnese, del nostro orgoglio di essere aquilani anche attraverso questo rito. Qual è il pezzo forte, il piatto forte di questo processo, e soprattutto da chi è composto, oltre a Trifoggi, già ne ha nominato qualcuno? Beh, insomma, c'è la pubblica accusa, che è rappresentata dall'avvocato Carbonara, che è stato anche presidente dell'Ordine degli Avvocati qui all'Aquila, l'Avvocato di fama. Quindi ci saranno vari pezzi forti, anche questa corte così composta con queste due donne, il notaio Francafanti, la professoressa Enza Turco, insomma, tra l'altro con un cancelliere vero. Quindi abbiamo cercato, ironicamente, ma anche per quello che riguarda, insomma, la serietà del discorso, di organizzare una festa per divertirci. Tutta questa gente ci onora e ci rincuora che siamo sulla strada giusta di cercare di fare qualcosa di positivo. Divertiamoci, ragioniamo, discutiamo e cerchiamo di ricostruirci. Dottor Trifoggi, quando la legge si prende un po' meno sul serio, magistrato oggi per un processo particolare, quello alle male lingue? Sì, sicuramente. Questo è più uno spettacolo teatrale, un processo vero e proprio, almeno nelle mie intenzioni. Spero che l'argomento venga trattato con grande leggerezza, con simpatia, con intelligenza, anche perché non dobbiamo dimenticare che il pianeta maldicenza che oggi viene processato è quello che ha chiesto di essere processato e quindi di questo bisogna dare gli atto. E passiamo ora allo sport. Si è svolta oggi la gara valevole per la Lega Pro tra l'Aquila Calcio e l'Upa Roma. Vediamo com'è andata. Inizio 2016 ok per l'Aquila, che vince lo scontro diretto contro la Luta Roma e colleziona la terza vittoria casalinga consecutiva. Che fatica però contro gli uomini di Cucciari. Una partita a due facce da parte degli Aquilani, in vantaggio di due gol dopo soli 15 minuti, ma poi capaci di farsi male da soli a fine frazione, concedendo il 2-1 agli avversari ed un secondo tempo thriller con l'incubo del 2-2 che ha sorvolato il fattore nel finale. Ma riavvolgiamo il nastro. Il tecnico aquilano Carlo Perrone opta per un cambio di modulo, considerata l'assenza di Maccarrone in difesa. Dunque non 3-5-2, ma 4-4-2, con la novità di triarico seconda punta dietro De Sousa, preferito a perla. A centrocampo torna Ceccarelli sull'out di destra, con San Domenico a sinistra. Passano solo due giri di lancetta e l'Aquila trova già il vantaggio. Mancini vince un rimpallo, la palla in aria, arriva De Sousa che supera il lob, mangia pelo e serve facile facile il punto dell'1-0 a Manuel Mancini alla seconda marcatura stagionale. Inizio perfetto degli uomini di Perrone che Maidomi al quarto d'ora raddoppiano. Difesa altissima della Lupa Roma, ancora Mancini con il telecomando verticalizzazione bruciante per Salvatore San Domenico, che apre il piatto destro e fa l'Aquila 2, lupa Roma 0. A cambiare la partita al tramonto della prima frazione è però l'infortunio muscolare occorso al terzino di Mercurio che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Entra Freddo Bigoni al 45esimo su una verticalizzazione dalle retrovie. L'Aquila fa male la linea difensiva, Savelloni esce fuori tempo e Ricci può appoggiare in rete per il 2-1 che rimette tutto in discussione. È l'episodio che cambia il vento dell'incontro. Nella ripresa infatti, tema tattico costante, la Lupa Roma in proiezione offensiva e l'Aquila passata al 3-5-2 che opta di rimessa. Si soffre, nonostante alla mezz'ora la Lupa Roma resti anche in 10 per il doppio giallo a Cristiano. I rosso-blu sprecano diverse ripartenze facendosi pescare ingenuamente in fuorigioco. Al 27esimo Fabbro da calcio d'angolo colpisce di testa un soffio a lato, occasione colossale però rimandata al 39esimo quando il capitano taglia Reol su un cross dalla destra. Savelloni battuto la spara sul fondo clamorosamente. È la chance mancata del 2-2. L'Aquila conserva il vantaggio e porta a casa tre punti pesantissimi in vista soprattutto del processo sul calcio scommesse che prenderà avvio lunedì. Nel post-gara è questa l'analisi del tecnico aquilano, Carlo Perroni. Sì, è stata a due facce perché siamo partiti molto bene e giocando in velocità come insomma si era pensato e abbiamo trovato subito i gol e potevamo anche gestire anche qualche situazione un po' meglio. Poi diciamo che fino al gol loro è stata una partita che era comunque diciamo che la tenevamo abbastanza bene anche se non avevamo continuato con lo spiglio dei primi 15 minuti. Poi una volta preso il gol così con questa palla lunga con la difesa si è fatta trovare un pochino impreparata anche perché c'era stato il cambio di Biconi che era entrato diciamo a freddo e poi il secondo tempo è stato un secondo tempo di sofferenza. Forse dal punto di vista mentale sapevamo che la partita doveva essere per noi era importante vincerla quindi per loro ugualmente era importante fare i punti quindi loro diciamo sono avanzati hanno gettato come si dice il cuore oltre l'ostacolo e ci può stare anche che la pareggia e alla fine siamo stati devo dire fortunati perché hanno avuto un'occasione molto importante che buon per noi hanno sbagliato quindi quelle partite sono sempre in bio se non riesci a chiuderle sono sempre in bio e poi l'episodio ci può stare che ti castiga. Con questa notizia è tutto per il nostro DG dall'Aquita a me non rimane che ringraziarvi della consueta attenzione e invitarvi a rimanere sintonizzati sulla nostra emettente. Grazie e buon proseguimento con TV6. Grazie a tutti. Grazie a tutti.